Vedi una ragazza, capisci che è la donna della tua vita. Le chiedi di uscire tre volte e lei dice di no tre volte. Vedi un'altra ragazza, capisci che è la donna della tua vita. Le chiedi di uscire e lei dice sì, l'ha detto per sbaglio, ma ormai non può rimediare. Non fate altro che parlare, vorresti baciarla ma temi che il mondo possa finire. Alla fine ti bacia lei, ormai distrutta psicologicamente. È tempo di scopare! Sì, ma a dove? A casa sua non se ne parla, a casa tua nemmeno anche se i tuoi genitori farebbero il tifo. Decidete di farlo in un parco di notte a fare il tifo, sono i tossici. Lei è bellissima, tu sei un lupo assitato di patonza e stai a barbagianni. Infili il gettone nell'apposita fessura, duri un minuto e eiaculazione precoce. Lei ti consola dicendoti che era successo anche al tuo miglior amico. Cosa? Un tossico ti passa la medicina che conosce lui, sbara e gli rischi di inchiappettarlo. Svegli il tuo medico di fiducia e lo costringe a darti retta alle 4 di notte. I consigli del medico non funzionano, ritorni sulla scena con il pingone che sembra una lampadina rossa fluorescente. It's time to rock and roll, baby! Patapim e patapam. Cine!